Poca voglia di parlare, nessuno del Real Giulianova che si presenti in sala stampa a commentare il pesante 1-4 nel derby col Francavilla, tranne il dirigente Luigi Valentini che invita tutti a mercoledì prossimo per la sfida di Coppa Italia in programma alla Fadini contro il Montevarchi. Mister Bolzan, assieme al presidente Luciano Bartolini e ad altri dirigenti, ha voluto un confronto immediato con la squadra, tutti chiusi negli spogliatoi per esaminare la sconfitta, giunta al termine di una gara che il Francavilla ha dominato dall'inizio alla fine. Gelo Rossi di casa ma incisivi, penalizzati forse anche dalle tante assenze, a cominciare dagli squalificati del Grosso Ettorelli, gli infortunati Fazzini da Damo e Barlafante. Del Giulianova, visto all'opera, c'è poco o nulla da salvare. Centrocampo senza fantasia, Napolano sulla linea d'attacco sembra sacrificare oltremodo le sue doti di trequartista. Lehnart, Gori e Balducci sovrastati dalla mediana impostata da Mister Rachini. Sugli spalti festa grande per il ritorno allo stadio di quei tifosi giuliesi che hanno terminato di scontare il Daspo. La partita offre pochissimi spunti per oltre un quarto d'ora, ospiti che iniziano a guadagnare qualche metro, a presidiare bene ogni zona del campo, nonostante le assenze di Banegas e Palumbo. Dos Santos approfitta di un errore difensivo locale ma il suo tentativo di pallonetto termina sul fondo. Il gol arriva però qualche minuto dopo, al ventitreesimo, lo firma Bellanca con una bordata da fuori area che sorprende Pagliarini. Reazione giuliese affidata a Lehnart, tiro alto. Ospiti in salute, sempre in pieno controllo dell'avversario, in almeno altre due circostanze vicinissimi al raddoppio con Paravati e Bellanca. Un primo tempo dunque vivace soprattutto per la formazione di Rachini, che nella ripresa troverà subito il raddoppio. Dopo cinque minuti, grave l'errore di De Fabritis, che nel controllo della sfera se la lascia rubare da Dos Santos. Il tiro dell'attaccante viene respinto da Pagliarini, un giocatore del Francavilla, è pronto alla ribattuta ma Ferrini lo mette giù. Cartellino giallo per il difensore rigore che lo stesso Dos Santos trasforma. Bolzan richiama un evanescente gore e inserisce Morra dirottandolo sulla fascia. L'undici francavillese non dà mai l'impressione di soffrire l'iniziativa del Giulianova. Anzi, Mancini si vede negare la rete da Pagliarini. È la volta di un altro ex, Fabrizia, al posto proprio di Mancini. Il Giulianova accorce al ventitresimo su un rigore generoso concesso per fallo su Tozzi Borsoi. Dal dischetto il numero 9 giallorosso realizza il terzo centro stagionale. Al venticinquesimo finisce la gara di Ferrini per il secondo giallo. A Matelica domenica prossima il Giulianova dovrà rinunciare due terzini titolari per squalifica. L'ex Fabrizia, alla mezz'ora esatta, fa 1-3 con un gran gol dalla distanza. Mentre il 4-1 finale lo firmerà un altro giocatore entrato dalla panchina, Montagnoli, e il quinto minuto di recupero. Il Giulianova paga il fatto di giocare una partita ogni tre giorni, una panchina imbottita di giovani e le tante assenze. Serve un'inversione di rotta perché la situazione di classifica rischia di complicarsi.